Musica Benvenuti su TV Prato da Cosimo di Bari, domenica 11 marzo 2018, Quart'ultima giornata del campionato di eccellenza, girone B, la Zenith Audax ospita il Grassina per cercare di dare continuità ai risultati delle ultime settimane, in particolare alla vittoria ottenuta contro la Fortis, al pareggio contro la Sinalunghese, vuole riscattare invece la sconfitta contro la Sestese il Grassina, nella partita che poteva consentire alla formazione di Innocenti di accorciare distanze sulla griglia playoff, invece ha vinto la Sestese per 2-0, tutto pronto per il fischio d'inizio, sarà la Zenith in maglia a oro a dare il calcio d'inizio, sul pallone c'è Leonardo Manganiello, andiamo intanto con la lettura delle formazioni, la Zenith si schiera con Masi, Melani, Zambrano, Saccenti, Benvenuti, Misliaca, Sforzi, Nardoni, Silva Reis, Perugi, Manganiello, a disposizione di Andrea Vieri che sostituisce in panchina Andrea Bellini, ci sono Belli, Darino, Morrison, Guarnieri, Frosini, Magelli, intanto subito il Grassina nella metà campo dei padroni di casa, cerca di rendersi pericoloso, Torrini prova a servire Mazzanti, allontana la difesa della Zenith, continuiamo con la lettura della panchina della formazione di casa, tra Mordison ci sono Guarnieri, Frosini, Magelli e Sordi, una panchina giovanissima nella quale il più esperto è il classe 96, Darino, il Grassina di Matteo Innocenti risponde con Carlucci, Beragnoli, Alderighi, Zagaglioni, Mannini, Bencini, Bellini, Torrini, Cragno, Bruni e Mazzanti, a disposizione di Matteo Innocenti ci sono Magnelli, Andorlini, Amoddio, Stella, Caschetto, Maccari e Berti. Calcio di punizione adesso per la formazione Rosso Verde che ha cominciato in modo aggressivo questo confronto del Chiavacci, provando subito a prendere posizione nella metà campo dei padroni di casa, abbiamo visto mentre procedevamo alla lettura delle formazioni un cross che ha attraversato l'area di rigore dei padroni di casa, si è difesa bene comunque la retroguardia pratese, adesso altra occasione per la squadra di Matteo Innocenti di affacciarsi dalle parti di Giacomo Masi, il portiere classe 2000 della squadra di casa. Calcio di punizione in favore del Grassina, la rincorsa da parte di Bruni che tenta la battuta, palla abbondantemente sopra la traversa, l'invio dal fondo per la Zenit Audax, abbiamo detto in apertura, Reduce dalla splendida vittoria sul campo della Fortis Juventus in rimonta grazie alla doppietta di Silva Reis che sta trovando la continuità nel andare a segno che forse gli era mancata nel girone di andata, a partire dalla doppietta contro la Zenit Audax nella ventitresima giornata, poi per quattro turni è sempre andato in gol, l'attaccante del regione brasiliano, intanto Manganiello vince il contrasto, arriva a traino Perugia, arriva anche la chiusura di Mannini che spedisce il pallone in fallo laterale, così la Zenit Audax può affacciarsi per la prima volta nella metà campo ospite vicino all'area difesa da Carlucci, Perugia ha restituito il pallone a Zambrano, ha tentato il cross, difende bene la difesa del Grassina, prova a ripartire con Bruni che lancia per Cragno, si ferma però su una pozza il pallone, Cragno soffia il pallone a Misliac, ma c'è fallo da parte dell'attaccante ospite, rapidissimo, quel pallone avrebbe potuto tentare l'allungo, ma il pallone si è fermato sulla pozza, non l'abbiamo detto, è una domenica molto piovosa, sta piovendo anche in questo istante sul Chiavace, inevitabilmente il terreno di gioco è pesante, adesso Saccenti, dà per Manganiello, finta di Manganiello che poi tocca per Zambrano, il contrasto di Sorrini, prova ad allontanare Beragnoli, il pallone termina in fallo laterale, l'ultimo a toccare è stato Mazzanti e quindi la rimessa è per la Zenit Audax, la batte Zambrano, prova a fare movimento Perugi, per lui il pallone, Perugi salta Mazzanti, prova l'allungo Perugi lungo la linea di fondo, lo chiudono sia Beragnoli che Mazzanti, primo corner della partita in favore della Zenit Audax. Quota a 32 punti, la Zenit deve cercare di fare risultato per tenere a distanza le zone calde della classifica, il corner servito all'interno dell'area, lontana di testa Bruni, sprinta Beragnoli per lanciare Cragno, Cragno è partito in posizione regolare, controlla bene, prova a sfidare Zambrano che però non si fa sorprendere, mette in condizione a Zenit di ripartire, ha provato a rimbeccare Perugi, Perugi ha guadagnato un'altra rimessa laterale, Manganiello con il petto restituisce a Zambrano, adesso Perugi ha tentato di chiudere il triangolo con Manganiello ma è stato intercettato il pallone e Beragnoli sperisce in fallo laterale, rimessa in favore ancora della Zenit, che dopo il buon avvio degli ospiti adesso sta provando a prendere in mano il pallino del gioco, Nardoni in orizzontale per sforzi, recupera la palla però il Grassina e prova a ripartire, il pallone si ferma in una pozza, allora Perugi tenta la verticalizzazione per Manganiello, difficile trovare la misura del passaggio anche perché i palloni calciati con potenza acquistano velocità ma spesso possono anche fermarsi sulle pozze e allora sarà una partita nella quale anche gli imprevisti saranno sempre dietro l'angolo, il lancio è per Bruni che protegge, poi Torrini dà per Mazzanti, lancio di Mazzanti a cercare Cragno, il pallone resta in campo, arriva la chiusura di Misliaca, contrasto di Cragno, rimbompe sul pallone Bruni, lo trattiene forse fallosamente un avversario, la conclusione, palla sul fondo, ha tentato il tiro Lorenzo Bellini che era arrivato al centro dalla sinistra, controllata, ha calciato di poco sopra l'incrocio dei pali, accanto al primo palo dopo 5 minuti, arriva la prima occasione del match, bravo Bruni qui a credere su questo pallone, ha subito anche egli fallo ma si è continuato a giocare per la norma del vantaggio e Lorenzo Bellini ha tentato la battuta, intanto intercettato il pallone da Cragno ha tentato di sorprendere Masi, palla oltre la linea di fondo e quindi sarà un'altra rimessa per la formazione di Andrea Bellini. Il rinvio di Masi, stacca Silva Reis, gli contende il pallone Bencini, poi il lancio a cercare ancora Bellini che sfida Melani, Melani calcia in fallo laterale, non si fa sorprendere l'esterno di destra, classe 99, rimessa è per Cragno, poi Bencini dall'indietro per Alderighi, ancora Bencini con il Mancino, crossa, prova a controllare Mazzanti ma poi allontana Saccenti. Il rinvio da parte di Mannini, Cragno, addomessica bene il pallone ma rientrava da offside, fischia il fuorigioco, il direttore di gara che è il signor Moretti della sezione di Valdana, assistito da Kika della sezione di Pisa e Cioce, sempre della sezione pisana. È stato proprio Kika a segnalare la posizione di offside, di rientro da parte di Andrea Cragno. Il rinvio di Benvenuti, Silva Reis, trova lui il pallone, poi Perugi in mezzo a tre avversari, ne esce palla al piede, lo protegge e poi lo scarica per Zambrano. Zambrano lancia per l'inserimento di Saccenti, capisce tutto Mazzanti che intercetta, è proprio a far ripartire il Grassina, Bruni non ce la fa a tenere il pallone in campo, ha provato con il tacco ma la sfera ha avvarcato la linea dell'out e quindi rimessa laterale già battuta. Adesso il teckel convinto da parte di Baccini, teckel anche Torrini, Nardoni protegge bene il pallone, poi lo scarica per Saccenti, controllo di Saccenti che preferisce tornare all'indietro da Capitan Benvenuti, Benvenuti a sinistra da Zambrano. Controllo di Zambrano e poi lancia per Silva Reis, si è scontrato in modo regolare con Mannini, ha chiuso bene Mannini e quindi la palla è arrivata in nuova tra i guantoni di Davide Carlucci, un altro giovane portiere, casse 98, il portiere titolare con 24 presenze fin qui in campionato. Il controllo di Baccini su di lui ha commesso fallo, però sforzi, calcio di punizione per la formazione rosso-verde, si appresta a batterlo Jacopo Zagaglioni, giocatore più esperto insieme ad Alderighi, classe 85, Alderighi è un 86, calcio di punizione battuto proprio da Zagaglioni, svirgola Saccenti, il pallone arriva dalle parti di Masi e il rimbarzo poteva trarre in inganno il portiere di casa che comunque è stato reattivo, ha fatto la sfera sul rinvio da parte di Masi contro la Silva Reis, arriva anche Perugi il contrasto da parte di Beragnoli che poi lancia per Cragno, Cragno prova a sfilare tra i due centrali di casa, ha chiuso benvenuti proprio in tandem con Misliaca, allora riparte la Zenit, Zambrano ha dato per Saccenti, Nardoni prova ad alzare i ritmi la Zenit, il lancio è per Manganiello che non ha gancia, allora allontana la difesa del Grassina, Bruni è da solo, senza compagni al suo fianco, deve fare tutto da solo, arriva su di lui Misliaca, ha arretrato Cera Torrini, ha provato a servirlo, non ha trovato la giusta misura per Bruni e quindi la rimessa laterale in favore della Zenit Audax, sta per batterla Zambrano, un palleggio di Manganiello gli soffia il pallone Torrini che prova a uscire palla al piede dalla situazione, ha subito fallo il centrocampista del Grassine, quindi calcio di punizione in favore della squadra di Matteo Innocenti, subentrato a Roberto Castorina, qualche turno fa le sconfitte subite contro il Giolli Montemurlo e contro la Bucinese, sono costate la panchina al tecnico ex Signa, Innocenti sta al di là della sconfitta subita nell'ultimo turno contro la Sestese, sembra aver trovato le chiavi giuste per il Grassine, anche se per ambire ad agganciare proprio la Sestese al quinto posto, la formazione Rosso Verde deve fare risultato in una vittoria contro la Zenit, un'anti Zenit che però sembra determinata a fare risultato per tenere a distanza le squadre che occupano i bassi fondi della classifica che sono in lotta per evitare i play-out, calcio di punizione adesso in favore della Zenit, si incarica di battere Nardoni, anche la Zenit ha in mediana in particolare davanti alla difesa il giocatore più esperto, classe a diretto 80, Thomas Nardoni, 38 anni e tanti stagioni da protagonista nei campionati direttantici toscani, il lancio di Nardoni intercettato da Sforzi e poi allarga per Melani, Melani di prima intenzione ha provato ad imbeccare Perugi, respinto però la difesa del Grassine, intanto c'è fallo dello stesso Melani ad anni di Bellini, calcio di punizione per il Grassina, appresta a battere Bencini che però lascia l'incarico della battuta a Mannini, l'hanno detto Baccini, Baccini è uno dei grandi assenti di questo match, colpo di testa da parte di Misliaca, svetta di testa anche Bruni, poi arriva la chiusura di Zambrano che spara direttamente in fallo laterale, con le sue 14 reti, è il miglior marcatore del Grassina in questa stagione, Benagnoli per Torrini, prolunga di testa in direzione di Cragno, svetta Cragno e va da sponda per la conclusione da parte di Bruni, che esce di poco alla sinistra di Masi, si è coordinato bene sulla sponda di testa di Andrea Cragno, palla oltre la linea di fondo, che è uscita di poco accanto al palo della porta di Carlucci, il secondo tentativo del match, di nuovo ad opera del Grassina, dopo quello di Bellini, è arrivato al quinto minuto, rimessa laterale in favore della Zenit Zambrano, si muove i saccenti per ricevere il pallone, viene incontro anche Silva Reis, per lui il pallone, ma Benagnoli lo anticipa, e poi Cragno dà per Torrini, lancio di Torrini, ben posizionato Misliaca, intanto Mazzanti svirgola il pallone, ma l'ultimo a toccare è stato Saccenti, quindi la rimessa è per il Grassina, forse c'era anche fallo sul numero 11 ospite, comunque rimessa battuta da Beragnoli, proprio per Mazzanti, recupera il pallone Saccenti, poi lo lascia Perugi, Perugi tenta di imbeccare Manganiello, arriva però puntuale la chiusura di Alderighi, Zambrano lancia per Silva Reis, chiude Mannini, su di lui Manganiello, Mannini non si fide, calcia direttamente in fallo laterale, difesa a tre per il Grassina, con Alderighi, Mannini e Beragnoli, esterni sono Mazzanti, e Bellini con tre giocatori che compongono la cerniera di centrocampo, Torrini, Zagaglioni e Bencini, proprio Bencini adesso stacca di testa, Bruni, la domestica del pallone, Zambrano glielo soffia, poi Mazzanti lancia per Cragno, sempre bravo a partire sul filo del fuorigioco, è partito in posizione regolare, ma non ce la fa a tenere il pallone in campo, rimessa laterale, in favore della Zanit Audax, arriva per eseguirla Zambrano, uno degli arrivi del mercato di dicembre, classe 95, ha trovato spesso spazio come terzino, nella Zanit Audax, adesso Bruni prova a saltare proprio Zambrano, e lo aggancia, c'è fallo da parte del numero tre di casa, i danni di Bruni, è stato bravo a fiondarsi su questo pallone, arrivato in anticipo rispetto all'avversario, inducendolo al fallo, allora il Grassina adesso avrà l'occasione per calciare, da una posizione interessante, ha fatto su il pallone Tommaso Bencini, perché con il mancino, è una posizione che indubbiamente fa gol al numero sei ospite, comunque arrivano anche Bruni e Bellini, sul punto di battuta, si allontana Bellini, intanto piazza la barriera Masi, si è allontanato anche Bruni, sarà quindi come era logico attendersi, Tommaso Bencini, classe 96, sarà lui a calciare questo calcio di punizione, doppia barriera, a dostruire la visuale di Masi, ci sono tre giocatori, anche del Grassina, comunque ha piazzato quattro uomini, Masi, che prende posizione dietro la barriera, sta per arrivare il fischio di Moretti, l'incorsa di Bencini, che cerca la porta, la risposta da parte di Masi, due giocatori avrebbero potuto colpire, ma è stato bravissimo Saccenti a sventare, c'erano sia Beragnoli che Torrini, pronti sulla ribattuta di Masi, Saccenti in teckel, intervento anche rischioso, ha trovato il pallone, sventando una minaccia, punizione di Bencini, con il pallone anche scivoloso per la pioggia, è stata ben respinta da parte di Masi, il cross di Bellini, lungo per tutti, palla oltre la linea di fondo, terzo tentativo, da parte del Grassina, una volta su punizione, con Tommaso Bencini, e provvidenziale, dopo la rispinta di Masi, anche il salvataggio di Saccenti, rinvio dal fondo, in favore della Zenit Audax, se non sono andati i primi 16 minuti del confronto, e fin qui, per quanto l'incontro sia equilibrato, le occasioni parlano chiaramente in favore dei Rossoverdi, tre tentativi, da parte della squadra di Matteo Innoscenti, il controllo di Mazzanti, su di lui Saccenti, lancio per Bruni, che contende il pallone a Zambrano, lo soffia all'avversario Bruni, che punta frontalmente la difesa avversaria, arriva l'inserimento di Bencini, il contrasto, il pallone rimbalza sul petto di Melani, allontana Sforzi, di testa Mazzanti, allontana però Zambrano, di testa arriva anche la respinta da parte di Zagaglioni, poi c'è fallo su Bencini, calcio di punizione per il Grassino, batte rapidamente Torrini, troppo rapidamente, col pallone in movimento, quindi tutto da rifare. Dunque dopo alcuni minuti in cui la Zenit era riuscita a tessere le proprie trame, alzare il baricentro, adesso come nelle primissime battute, il Grassino a fare la partita qui al Chiavacci, in corsa la parte di Zagaglioni, che va a cercare la testa di Bruni, Bruni testa per Torrini, nuovo per Cragno, l'uscita da parte di Masi, arriva Zambrano ad allontanare, altra minaccia, ma continua l'azione del Grassino, Cragno soffia il pallone, Benvenuti mette al centro, Masi para a terra e fa sua la sfera, ancora Grassina pericolosa, ancora bravissimi sia Bruni che Cragno, ad intendersi nell'area avversaria, con la sponda da parte di Torrini. Silva Reis arriva a Perugi, su di lui Torrini si aiuta forse con il fallo, Torrini adesso recupera il pallone regolarmente, Cragno ha provato ad imbeccare Bellini, ma la Pozza ha fermato il suo suggerimento, adesso capitano Alderighi ha dato per Bellini, trattenuto da Melani, c'è il fallo, chiede il cartellino Bellini, lancio da parte di Zagaglione a cercare Cragno, interviene, però Benvenuti, mette in fallo laterale, subito nel vivo, il tandem di attacco, Cragno-Bruni, anche Bellini sta cercando di entrare sempre di più in partita, adesso ha tentato il dribbling su Melani, non si è fatto disorientare, allora riparte la Zenit, sforzi ha lanciato per Melani, Melani prova ad imbeccare Manganiello, lungo il suggerimento per il numero 11 di casa, è facile l'uscita da parte di Carlucci, su il pallone, con le mani Carlucci, prolunga Torrini, poi Bruni, chiama in causa Mazzanti, Mazzanti per Cragno, Misliaca, svetta di testa, Saccenti, Zambrano in verticale, arriva il pallone a Perugi, che ha provato a servire Saccenti, anche per lui errore di misura, ma è difficile davvero parlare di errori, con un terreno così pesante, Mazzanti, la rimessa è per Torrini, svetta Nardoni, Beragnoli prova a saltare Saccenti, il cross è interessante, arriva Misliaca ad anticipare Cragno, poi Zagaglione più preoccupato di non far ripartire la Zenit, che di imbeccare un compagno, il pallone termina in fallo laterale, rimessa in favore dei padroni di casa, Zambrano, Nardoni, ancora Zambrano alza un campanile, svetta Perugi, il pallone viene recapitato a Silvia Reis, che riceve le spalle alla porta, e prova a lanciare per Manganiello, puntuale la chiusura di Mannini, che mette in fallo laterale, ancora rimessa per la Zenit Audas, che guadagna molti metri, batte la rimessa a Silvia Reis, Nardoni e Zambrano cercato di recapitare il pallone a Silvia Reis, Silvia Reis adesso di prima intenzione per Perugi, arriva puntuale la chiusura di Mannini, che però è costretto a mettere in calcio d'angolo, è il secondo corner in favore della Zenit Audas, Ancora un tiro dalla bandierina, dalla sinistra, ed è ancora Thomas Nardoni a calciare con il destro, traffico all'interno dell'area di rigore, calcia Nardoni allontana di testa Bruni, poi Perugi, prova la girata, pare senza difficoltà Carlucci, che blocca, lo contende Nardoni a Torrini, è proprio Nardoni a trovare il pallone, adesso Perugi, ancora triangolo con Nardoni, tocca a terra il pallone, sforzi Silvia Reis, Torrini, altro reinvio, e da qualche seconda il pallone non tocca a terra, lo fa adesso con la chiusura di Zambrano su Bruni, Saccenti, prova a saltare Mazzanti, ma si porta il pallone oltre la linea laterale, Torrini batte rapidamente per Bruni, si scontra con Zambrano, tutto regolare, comunque arriva Misliaca a chiudere, e si accontenta della rimessa, rimessa affidata, come sempre ha per Francesco Zambrano, Nardoni, Misliaca, arriva Zagaglioni, colpisce di testa, poi Nardoni ha cercato di imbeccare Perugi, Perugi non è riuscito a tenere il pallone in campo, rimessa stavolta in favore del Grassina, e c'è Matteo Benagnoli ad effettuarla, con il tacco Bruni per Cragno, Cragno senza guardare, serve Mazzanti, Cragno di Mazzanti, arriva il primo corner, anche per il Grassina, guadagnato da questa incursione di Mazzanti, ben imbeccato da Cragno, la sua volta Cragno era stato servito da Bruni, si trovano bene i due attaccanti del Grassina, intanto ci sono tre giocatori nell'arco di un metro del Grassina, con Cragno ad infastidire Masi, sarà probabilmente uno schema, quello pensato da Mister Innocenti, il pallone verso il secondo palo, dove stacca Beragnoli, che dà l'indietro per Mazzanti, con il mancino, non trova lo specchio della porta, forse aveva cercato di proporre il pallone all'interno dell'area, comunque non ha trovato la giusta misura, e palla oltre la linea di fondo, per il rinvio affidato a Giacomo Masi, se ne sono andati i primi 23 minuti del primo tempo, punteggio ancora fermo sullo 0-0, più Grassina che Zenit, fin qui soprattutto nelle occasioni, anche se la partita è equilibrata, adesso Melani, lancio per Manganiello, è raggiungibile per l'attaccante di casa, allora riparte il Grassina per Agnoli, Saccenti intercetta, Perugi per Manganiello, rientrava da posizione di fuorigioco, si alza la bandierina dell'assistente Cioce, calcio di punizione per la formazione Rosso Verde, punizione che sta per essere battuta da Federico Mannini, che occupa la posizione centrale nel terzetto di difensori, schierati da Mister Innocenti, con il Mancino, tenta la battuta per la testa di Cragno, svetta Cragno che prolunga, ma lontana benvenuti, ancora Cragno, soffia il pallone a Nardoni, arriva Bencini, finta il cross Bencini, a suo fianco c'è Bellini, preferisce fare tutto da solo Bencini, perché sarebbe stato chiuso Bellini, guadagna il massimo in quella situazione, ovvero una rimessa laterale, adesso Alderighi restituisce il pallone a Bencini, che prova a saltare Perugi, si scontra nei due, commette fallo Bencini, intanto proteste da parte dei giocatori della Zenit, perché Bencini, intanto chiarimento tra il direttore di gara e Perugi, viene ammonito proprio Perugi, che probabilmente ha commesso una scorrettezza, dovrebbe aver visto così il direttore di gara, qualcosa da dire Perugi, che facendo di essere stato colpito con il tacchetto da Bencini, calcio di punizione comunque in favore della Zenit, anche se il primo ammonito dell'incontro è Simone Perugi. Al venticinquesimo del primo tempo, c'è Tommaso Melani, cresciuto nel settore giovanile del margine coperta, una stagione nella Berretti del Prato, ed è una delle rivelazioni della squadra di Mr. Bellini, uno dei punti di riferimento come terzino destro, adesso Silva Reis, fa da sponda per Perugi, è bravo però Torrini a chiudere, lo stesso Torrini poi lancia in direzione di Bruni, pallone irraggiungibile per l'attaccante rosso-verde, rimessa laterale, è in favore del Zenit Audax, con Zambrano, viene incontro Saccenti, pallone però è per Perugi, che prolunga di testa in direzione di Manganiello, chiude Beragnoli, ancora Perugi per Manganiello, Silva Reis, prova a chiudere il triangolo, vince tutto Beragnoli, che poi allontana il pallone Saccenti, protegge la sfera, accontentandosi della rimessa laterale, rimessa che viene affidata, come al solito, a Zambrano, rilancio a cercare ancora la testa di Andrea Cragno, stavolta trova il pallone Misliaca, libero di impostare Melani, che lancia, però intercetta Zagaglioni, Zagaglioni con il mancino, ha tentato di servire Andrea Cragno, pallone irraggiungibile per l'attaccante, palla oltre la linea laterale, per lui l'esperienza nella passata stagione, con la maglia della Fezzanese, dopo aver vestito quella della primavera del Livorno, lui che è cresciuto nel settore giovanile della Cattolica Virtus, come d'altronde il fratello, che difende la porta del Cagliari in Serie A, adesso ancora il Grassina, continua nella metà campo avversaria, a fare qualcosa in più rispetto alla Zenit, vince il contratto, però Silva Reis può ripartire la Zenit, Manganiello, Torrini, il contratto su Silva Reis, l'ultimo a toccare è stato proprio Silva Reis, chiedevano il tocco con il braccio, i sostenitori di casa, ma il direttore di gara assegna la rimessa laterale, in favore del Grassina, batte Beragnoli a cercare Cragno, che controlla, prova a sfidare Zambrano, Cragno supera Zambrano, protegge il pallone, Zambrano ritorna su di lui, era trattenuto dall'avversario, palla oltre la linea di fondo, rimessa in favore della Zenit Audax. Forse il direttore di gara ha concesso la norma del vantaggio, Cragno in effetti è riuscito ugualmente a crossare, nonostante la trattenuta, da parte di Zambrano, palla che ha avvercato la linea di fondo, comunque, e ne via in favore dei padroni di casa, Giacomo Masi, Bencini, lotta con Nardoni, arriva Sforzi, che è il convinto da parte di Bencini, che è già pieno di mota, testimonianza di quanto lotta il numero sei ospite, proprio lui adesso che però sbaglia il passaggio, o meglio il pallone si ferma su una pozza, Sforzi, fermato da Mannini, che rilancia dalle parti di Bruni, benvenuti, non si fida, e calcia in falo laterale, sul piano dello spettacolo, è inevitabile che le due squadre possano cercare di rischiare il meno possibile, che è difficile che si cerchi il fraseggio, ci prova il grassina, soprattutto quando dialogano i propri attaccanti, è difficile rischiare in queste condizioni, perché il terreno può rendere imprevedibile qualsiasi passaggio, come abbiamo visto più volte nell'arco di questa mezz'ora di gioco, stiamo per arrivare infatti al trentesimo, il rinvio di Sforzi, intercetta Perugia, ma il pallone ha varcato la linea laterale, la rimessa in favore della Zenit Audax, perché ha toccato Bencini, Saccenti con il petto, poi lancia per la testa di Manganiello, Manganiello con il petto, prova a servire Silva Reis, che è partito in posizione regolare, secondo l'assistente Silva Reis, davanti al portiere, le finte di Silva Reis, fermato dall'intervento Sìmanini, che è di Carlucci, che occasione per la Zenit Audax, ma occasione che forse è stata vixata da un offside, era comunque in linea l'assistente Cioce, che occasione per la Zenit Audax, anche dopo i tentativi della formazione ospite, l'occasione migliore, è arrivata Silva Reis, che non è riuscito a dare continuità alle reti segnate nelle ultime settimane, ottimo l'assist di Manganiello, ma da rivedere alla Moviola, la posizione di partenza di Silva Reis, perché occhio nudo ci era sembrato oltre l'ultimo difensore, ma certo era ben posizionato, era perfettamente in linea, il signor Cioce di Pisa, Silva Reis poi si è presentato, davanti a Carlucci, ma ha perso l'attimo per calciare, Mannini è stato bravissimo a soffiargli il pallone. Premessa laterale in favore della Zenit Audax. Melani per Nardoni, svetta di testa Bencini, Cragno prova a saltare due avversari, Cragno lo chiude benvenuti, Bencini per Bellini, che però scivola, arriva Melani a guadagnare la rimessa laterale, Melani per Nardoni, di testa per Perugia, Manganiello anticipato da Mazzanti, Bencini, c'è fallo da parte di Nardoni, si è rifatto con il braccio sul numero 6 ospite, e giusto il calcio di punizione, fischiato dal signor Moretti della sezione di Valdarno, che sta dirigendo bene, fin qui un match molto fisico, e con il terreno pesante, è anche inevitabile che siano tanti duelli nella zona centrale del campo, calcio di punizione affidato al Grassina, inquadrato dalla nostra Martina Raffanelli, sta per batterlo Jacopo Zagaglioni, un giocatore piazzato in barriera da Masi, la punizione verso il secondo palo, ha tentato di rimettere verso il centro Beragnoli, poi arriva Bencini, si porta il pallone però oltre la linea laterale, rimessa in favore della Zenit Taudax, anche questo lo possiamo annoverare, tra gli errori indotti dal campo, Saccenti ha provato a prolungare di testa, ma ha mandato oltre la linea laterale, quindi rimessa in favore del Grassina, con Matteo Beragnoli, passato al Grassina tre stagioni fa, dopo un lungo percorso nel settore giovanile dell'Olimpia Firenze, culminata con la vittoria del titolo regionale, sono i suoi 98, intanto si porta il pallone oltre la linea laterale Mazzanti, intercetta Bruni, ma mette di nuovo in fallo laterale, l'ennesima rimessa, affidata a Pierfrancesco Zambrano, bene, incontro Saccenti, il direttore di gara fa segno a Zambrano, e deve arretrare di qualche passo, Zambrano rimette il gioco verso Saccenti, colpisce però di testa Mazzanti, allora riparte ancora il Grassina, Cragno non riesce a superare Benvenuti, si è allungato troppo il pallone, è stato poi bravo il capitano di casa, a prendere posizione, e a soffiargli il pallone, ha tentato di fare tutto da solo qui Cragno, però su un terreno in queste condizioni, è davvero difficile andare a dribblare, in velocità agli avversari, con la punizione battuta con il Mancino da Benvenuti, Silva Reis con il tacco, ha provato a servire Manganiello, arriva Nardoni a mantenere in attacco la Zenit Taudax, Nardoni ha provato l'apertura per Melani, intercetta Bencini, poi lancia per Bruni, Bruni ha provato a prendere posizione, è saltato più in alto, di lui Misliaca ha chiesto il fallo, Bruni, tutto regolare, secondo Moretti, poi il rilancio da parte di Nardoni, a cercare Perugi, Alderighi colpisce in piano Silva Reis, Silva Reis stacca altissimo, e imbecca Perugi, ma c'è stato fallo, proprio da parte di Silva Reis, che aveva saltato altissimo, ma secondo il direttore di gara, ha alzato troppo il braccio, intanto arriva l'ammunizione, anche per Alderighi, si fa sentire il direttore di gara, non soltanto con i cartellini, ma anche con, rimproverando a voce alta, i 22 in campo, quando escono dalle righe, è la seconda munizione che arriva in questo confronto, intanto va a bordo campo, a farsi soccorrere Alderighi, probabilmente sta perdendo sangue, dicevamo il secondo cartellino giallo che arriva, ed è il secondo cartellino giallo che arriva, per un giocatore che ha subito fallo, testimonianza di come il signor Moretti, non tolleri le proteste da parte dei 22 in campo, 35esimo minuto del primo tempo, un punteggio ancora sullo 0-0, deve aspettare Alderighi, ha riscatto qui Alderighi, perché in queste situazioni può arrivare anche il cartellino, avrebbe stata davvero un'ingenuità incredibile, lasciare la scuola in 10, punizione di Mannini, che cerca Bruni, Bruni lascia scorrere per Torrini, prende posizione Saccenti, che copre molto bene, si stacca Zambrano per aiutarlo, Torrini però lo induce ad arrivare nei pressi della bandierina, tocche per Bruni, andato giù Bruni, sotto gli occhi dell'assistente, sentito dalla tribuna, l'urlo di Bruni, tutto regolare, comunque secondo il direttore di gara, rimane a terra Bruni, si continua a giocare comunque, Manganiello, Beragnoli in orizzontale per Bencini, intercetta la Zeniti, lancia per Silvaresi, ferma su una pozza il pallone, Carlucci esce fuori dai, è la sua area, Beragnoli lascia scorrere Cragno, arriva a chiusura da parte di Misliaca, e subisce anche il fallo da parte di Cragno, non è così secondo il direttore di gara, lascia molto correre in questa fase il direttore di gara, in questo caso era netto il fallo di Andrea Cragno, a danni di Misliaca, come forse ci poteva stare il fallo a danni di Bruni in precedenza, dunque è probabilmente più vicino il direttore di gara a noi, adesso è rimasto a terra Misliaca, non è calcio di punizione, rimessa laterale per il Grassina, si rialza comunque il numero 6 di casa, difensore centrale, soccorso dal massaggiatore, è rimessa in favore del Grassina, allora per batterla, sta arrivando Giulio Mazzanti rimessa a cercare Torrini, allontana benvenuti, che spara in fallo laterale, momentaneamente in 10 la Zanitta Audax, perché si sta rialzando soltanto adesso Misliaca, ancora rimessa da parte di Mazzanti, Nardoni allontana, poi Saccenti, c'è Bencini a darpionare il pallone, a chiamare in causa Alderighi, Alderighi per Bellini, anticipato da Melani, pallone termina in fallo laterale, rimessa in favore del Grassina, Alderighi per Bruni, Bruni fa da sponda per Bellini, ma soffia il pallone Perugia, poi lancia in direzione di Manganiello, Mannini arriva a chiudere, controlla Bellini, all'indietro per Alderighi, Alderighi gli restituisce pallone a Campanile, Nardoni, Ardoni con un cucchiaio per Perugia, Mannini allontana, cercando di beccare Cragno, Cragno sfida in velocità benvenuti, però è rapidissimo, e spara il pallone in fallo laterale, rimessa in favore del Grassina. 38 minuti sul cronometro, ancora fermo sullo 0-0 il punteggio, occasione più nita da fin qui, l'ha avuta la Zenit con Silva Reis, ma il Grassina sta facendo qualcosa in più, sia sul piano di un certo predominio territoriale, sia per il numero di tentativi, verso la porta di Masi, Cragno prova a girarsi, crossa verso il secondo palo, hanno attaccato il primo palo, tanto benvenuti quanto Torrini, e nessuno è riuscito a raccogliere il cross, che poteva essere interessante, se qualcuno avesse atteso più largo il pallone, rimessa dal fondo in favore della Zenit Audax, ed è Giacomo Masi pronto ad effettuare il rinvio. Abbiamo ancora detto i moduli, ma si tratta di un 3-5-2 per il Grassina, 3-1-2 con Perugia a supporto di Silva Reis e Manganiello, per la Zenit Audax, è proprio Perugia adesso che prova a guidare l'attacco della Zenit, Silva Reis non riesce a vincere il contratto con Zagaglioni, che poi con il Mancino prova l'apertura per Bruni, Melani non è ingannato dal rimbalzo sulla pozza, poi con il tacco Bruni ha dato per Bencini, Bellini arriva su di lui, Benvenuti prova a saltarlo, Bellini va giù, c'è fallo in questo caso, calcio di punizione in favore del Grassina, Bellini ha tentato di saltare, Benvenuti è arrivato in te, che è l'intervento non cattivo ma duro, giusto forse qui la decisione del direttore di gara di non estrarre il cartellino, per un tackle che se fosse arrivato su un campo asciutto sarebbe stato sicuramente passibile di ammunizione su questo terreno di gioco, se si cerca il pallone in scivolata diventa impossibile fermarsi. Calcio di punizione per il Grassina, due giocatori sul punto di battuta, ci sono Jacopo Zagaglioni e Tommaso Bencini, due giocatori anche in barriera, finta il cross da Gaglioni, procede invece Bencini e va verso il secondo palo, era riuscito a trovare il pallone Beragnoli, ma aveva commesso fallo ai danni di Perugi, calcio di punizione è in favore della Zenit Audax. La rincorsa da parte di Giacomo Masi, preferisce come è ovvio che sia il rinvio lungo, perché giocare il pallone dalle retrovie in queste condizioni rischia di essere davvero pericoloso, adesso Bencini che è uno dei migliori in campo in questa prima frazione, vince un contrasto, contende il pallone a tre avversari, Nardoni però guadagna adesso il calcio di punizione. Sesso Nardoni calcia, non batte però dal punto esatto, troppo avanzato il punto dal quale il numero 8 di casa ha battuto il calcio di punizione, tutto da rifare. Palla che viene consegnata a benvenuti da Andrea Cragno, prendono posizione gli esterni della Zenit Audax, cioè Melani largo sulla destra, la condizione è a cercare Perugia e Manganiello, arriva più in alto di loro Torrini, che però mette in falo laterale, quindi rimessa in favore della Zenit Audax con Zambrano, viene incontro Manganiello, Manganiello controlla, prova a girarsi, su di lui talonarlo c'è Torrini, il cross è lungo per sforzi, arriva a chiudere Alderighi, che non si fida e spara in falo laterale, rimessa per la Zenit, che rimane nella metà campo ospite, Melani. Viene incontro Nardoni, il pallone per Saccenti, controlla bene, poi prova a verticalizzare, allontana Zagaglioni, sporca il pallone Bruni, Misliacasi, ferma il pallone destinato a Zambrano, poi lo stesso Zambrano, si vede rimpallare il pallone addosso, adesso Perugi va sul Mancino, lancia per Manganiello, Manganiello sprinta per tenerlo in campo, ce la fa su di lui Mazzanti, prende posizione Mazzanti, che soffia il pallone senza fallo, arriva Saccenti, che va giù, ma è tutto regolare, guarda nella rimessa, Giulio Mazzanti, intanto è rimasto a terra Manganiello, meglio si è rialzato, è rimasta giù la bandierina, spezzata in due, e allora deve intervenire la panchina della Zenith Audax, per raddrizzare la panchina, arriva anche Capitan Benvenuti, arriva anche Capitan Benvenuti, chiedere un chiarimento al direttore di gara, probabilmente sui due interventi che abbiamo visto in precedenza, da parte di Mazzanti, che comunque è riuscito senza fallo, a soffiare il pallone agli avversari, si riprenderà con la rimessa laterale, questa 26esima giornata di campionato, il crew è ovviamente ad Agliana, dove la capolista ospita la Sinalunghese, da seguire anche la sfida tra Fortis Juventus e Porta Romana, dove si incontrano le quattro formazioni, che guidano la classifica di questo girone, un turno che potrebbe essere decisivo per le sorti del campionato, Aglianese a 55, a tre punti di vantaggio sul Porta Romana, adesso Bencini lancia per Cragno, il contrasto vinto da Nardoni, sforzi su di lui Bencini, ricapita il pallone a Perugi, che palleggia e poi prova a cercare un compagno, lo trova in manganiello, ma lancia il lungo, arriva la chiusura da parte di Mazzanti, che spara direttamente in fallo laterale, rimessa per la Zen, battuta rapidamente, Silva Reiss, domestica il pallone, lo scarica per Perugi, prova a saltare Torrini, va oltre la linea di fondo, rimessa in favore del Grassina, rinvio affidato a Davide Carlucci, portiere Mancino della squadra di Mister Innocenti, intanto sarà un minuto di recupero, alzata la bagnetta dalla panchina di casa, si giocherà quindi fino al 46esimo, Cragno lascia scorrere su di lui, c'è Misliaka, Misliaka mette in fallo laterale, sarà adesso il Grassina, potrebbe essere l'ultima occasione per provare a sbloccare il risultato in questa prima frazione, rimessa per Torrini, Nardoni gli contende il pallone, salta più in alto di Torrini, poi Bencini, altro errore di misura del numero 6, ospite che spara direttamente in fallo laterale, mancano 20 secondi all'intervallo, rimessa a cercare Manganiello, ma c'è Zagaglione a chiudere, Cragno lotta con Misliaka, prende posizione Misliaka, poi rinvia Nardoni, all'indietro per Zambrano, alza un campanile con il mancino, Silva Reis, arrivano adesso i due fischi del signore Moretti della sezione Valdarno, finisce 0-0, il primo tempo tra Zenit, Audax e Grassina, un primo tempo equilibrato, nel quale Grassina ha fatto qualcosa in più, ma l'occasione più nitida è capitata alla Zenit, con Silva Reis, che si è presentata davanti a Carlucci, senza riuscire a sbloccare il risultato, restate con noi per seguire il secondo tempo di Zenit, Audax e Grassina.